Musica Ah, ciao Dite che mi dicono dalla regia, ciao regia Mi dicono che devo iniziare il vlog Vabbè, buono, dai, iniziamolo allora Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo vlog speciale per i mille iscritti Sì, lo so che è arrivato con molto ritardo, però dovete capirmi Sono andato in Irlanda e non ho avuto tempo Quindi faccio il vlog per i mille iscritti e ho appena tipo 1320 Una roba del genere Che posso dire? Veramente grazie, 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 grazie Perché nonostante ci abbia messo un po' a venire fuori su YouTube Dato che ho iniziato, non so quanti lo sapranno Ho iniziato a giugno 2014 Sì, perché a giugno 2015 era due mesi fa Ho iniziato a giugno 2014 e in un anno ho fatto mille iscritti E voi direte, beh, ok, non è che sia chissà cosa Sì, però io ho fatto tipo sei mesi con nove iscritti Quindi vuol dire che ho fatto mille iscritti in sei mesi Che in realtà è buono E niente, riniziate la scuola Voi come state? Passate bene le vacanze? Spero di sì, le ho passate abbastanza bene Anche queste qua, ultime in Irlanda A parte un episodio spiacevole Che su cui poi ho intenzione di fare un video Perché è una tematica abbastanza seria Diciamo Chi mi segue su Ask, quei pochi, quei dieci Che mi seguono su Ask Forse sanno già qualcosa È successo un fatto molto sgradevole Di cui parlerò più avanti Faccio questo vlog principalmente per dirvi Cosa ho intenzione di fare per i mille iscritti Anche se siamo lì Farò più probabilmente per i mille quattrocento a sto punto Perché tanto stiamo navigando sempre più veloci E vi ringrazio anche di questo E avevo intenzione di fare un fact time Per chi non lo sapesse Semplicemente voi iscritti fate delle domande a me E io risponderò in un video In un altro video, ecco E sì, per chi non l'avesse capito Questo sono io Sì, questa è la mia faccia C'ho una faccia Non sono un'entità astratta Ciao Quindi niente Scrivete nei commenti Facciamo, sì Non vi faccio andare su Ask Perché non sono cattivo Con l'hashtag Fuck Scritto come lo vedrete Da qualche parte Tipo qui penso Sì Qua lo vedrete Scrivete Fuck E la domanda che volete farmi Spero di ottenere Cioè di avere un po' Un po' di domande Perché è ovvio che non faccio un video In cui rispondo a tre domande Spero siano un po' di più E un'altra cosa C'ho da dire Che sabato Io sto registrando Venerdì Venerdì Sì Questo vlog uscirà sabato Penso E sabato stesso Cambierò il pc Perché cambierò il pc? Perché questo pc qua È andato Sta andando Tipo Bynet, Frost e Rocket Che sono I miei carissimi amici Lo sanno già Ciao Vi saluto Tra l'altro Ricorderete voi Le geste del mio pc E i miei pugni Vabbè Lasciamo perdere E cosa comporterà però Il cambio del pc? Comporta il Cioè No Qual è il problema però? Il problema è che sul pc vecchio Non ho ancora renderizzato Tutti i video di Snakewood Anzi Non ne ho renderizzato Nessuno di quelli che devo ancora uscire Quindi Potrebbe E dico potrebbe Succedere Che La programmazione dei video Vada un po' rilento Perché Con il pc che mi ritrovo Che Incredibilmente sta ancora funzionando Ma è sul punto di morire I video Credo che si renderizzeranno Tipo un video di 15 minuti Ci mette 5 ore 5 ore a caricare Quindi capite che per me Adesso che è iniziata la scuola Che ho il calcio La chitarra Tra l'altro Guardate che bella È dietro Guardate il post di Kurt Eccolo E Niente Con tutti questi nuovi impegni Io non è che riesco a dedicare 10 ore del mio pomeriggio a Youtube Cioè a fare dalle 13 alle 23 Io vi invito Prima di concludere questo vlog A scrivere nei commenti La domanda Perché sennò è inutile E Sì Non sono abituato a guardare la telecamera Ogni tanto sposto lo sguardo di lei E prendo un rapsus Fate finta che Non sia successo niente E niente Se volete lasciate un like Anche se Vabbè Non è che sia così indispensabile Iscrivetevi Quello sì E Niente Visualizzatelo Tanto per dir cazzate E niente ragazzi Noi ci becchiamo Nel prossimo video Che non so neanche io qual è Ciao Ciao